per realizzare questo tutorial abbiamo bisogno di scaricare un pacchetto di pennelli a crepe questi cracks che sono reperibili in questa pagina, questa è una pagina di un sito dove è possibile scaricare pennelli per photoshop, una volta arrivati a questa pagina vi lascio poi l'indirizzo subito dopo, basta cliccare download file e scarica automaticamente questo pacchetto che contiene 22 pennelli con queste forme di crepe di tutti i tipi, questo è l'indirizzo per accedere a questa pagina potete mettere in pausa e copiarvi con comodo tutta questa filippica oppure cliccare sotto nella descrizione del video inserisco il link direttamente per accedere alla pagina di download. Una volta scaricato entriamo nell'icona computer, naturalmente nell'hard disk dove è caricato, dove è salvato il programma di photoshop, quindi apriremo il C, il principale, andremo nella cartella programmi, adobe, sceglieremo la versione che utilizziamo, io qua ne ho un paio, quindi vado su cs5 e presets, su presets abbiamo brushes ed è la cartella che contiene tutti i pennelli, infatti ci ritroveremo, dopo averlo scaricato, questo file qua che è un abr file e l'estensione dei file per i pennelli che va copiato e incollato in questa cartella, da fare con photoshop chiuso perché altrimenti non lo riconosce, poi si apre il programma e nella gestione dei pennelli ci ritroveremo questa serie aggiunta a quelli che già erano contenuti. Tornati in photoshop con la fotografia che intenderemo utilizzare, ci spuntiamo un attimo lo strumento pennello, clicchiamo qua nella gestione dei pennelli, in questa piccola freccettina e andremo ad aggiungere all'elenco, a ciò che già è presente in questa finestra quello nuovo, quella serie nuova denominata cracks. Lo spuntiamo, facciamo aggiungi e ci ritroveremo in basso tutta la serie, eccola qua. Questi li utilizzeremo per l'elaborazione che andiamo a vedere. Finestra dei livelli aperti, quindi menu finestra, livelli, ce ne creiamo uno nuovo, quindi seconda icona in basso a destra e riempiamo con il colore bianco, invertiamo bianco e nero, spuntiamo il secchiello, teniamo cliccato se dovessimo avere la sfumatura ed è la voce sotto, il secchiello e riempiamo con il bianco. Invertiamo colori in primo piano, questa volta con il nero in primo piano, spuntiamo pennello e ne andiamo a cercare uno fra quelli nuovi che abbiamo caricato. Tendo a scegliere uno di quelli con un'apertura un po' larga, capiremo poi perché, e ad assegnare naturalmente una dimensione generosa per potermi creare un'apertura dove poi emergerà la fotografia sottostante. Crea un nuovo livello vuoto a di sopra, così potrò poi giostrarmi sulla modifica di questi pennelli e inizio col disegnare il primo di questa, il primo che utilizzo. Questa sarà la sua prima versione, andrò in base naturalmente alla fotografia che abbiamo, nel mio caso modifica, trasforma, ruota, rifletti orizzontale, questo per crearmi un'apertura nella zona dove naturalmente c'è il viso. Per aiutarmi un po' a capire andrò sul livello numero 2, riduco un po' l'opacità e riesco a vedere cosa c'è sotto. Questo mi aiuta poi a modificare questo pennello, quindi lo riattivo, riattivo il suo livello con gli strumenti di modifica, trasforma, scala, vado un po' ad adattare l'apertura che dovrà concentrarsi naturalmente nella zona più interessante della fotografia. non è importante mantenere le proporzioni, è una volgarissima crepa, quindi non è obbligatorio che le proporzioni originali siano rispettate. Doppio clic per confermare, riattivo il livello numero 2, porto di nuovo l'opacità al 100%, attivo il livello superiore, un clic con il tasto destro, unisci sotto, quindi unirà il pennello con il livello in bianco e vado a modificare il metodo di fusione. Scorro un po' veloce e mi fermerò probabilmente qua. Sì, che siamo su schiarisci, proviamo anche gli altri, vediamo che effetto può fare, a volte si possono trovare combinazioni inaspettate. Comunque torno indietro e mi fermo su schiarisci. Ecco, posso ancora, con modifica, trasforma scala, adattare questa apertura, naturalmente la mia fotografia non sono tutte uguali e non tutte andranno bene con la stessa apertura. Crea un nuovo livello al di sopra e sempre con lo strumento pennello vado a spuntare qualcosa di diverso, quindi aggiungerò qualcos'altro, oltre a quello che ho già qua, con gli altri pennelli disponibili per aumentare un po' questo effetto, questa serie di crepe che andranno a disegnare la parte a di sopra della fotografia. Ne scelgo qualcuno, cerco di fare in modo che si adattino un po' alla mia situazione, posso modificarne le dimensioni, quindi non fermarmi a una dimensione soltanto e naturalmente cercare di avere una crepa che si possa adattare alla mia situazione. Quindi posso fare le mie prove e vedere per esempio questa qua, mi è andata a finire sopra l'occhio, non è credibile perché già c'è un'apertura sul bianco, quindi CTRL-Z un passo indietro e mi concentro sulle parti più bianche. Posso esagerare, posso cercare di limitarmi, dipende dal nostro gusto, naturalmente dobbiamo sempre fare in modo che la cosa sia abbastanza credibile. proseguiamo aggiungendo al livello di sfondo, quindi lo attiviamo, un livello di regolazione e convertiamo in bianco e nero, quindi spuntiamo bianco e nero e andiamo a regolare i cursori in base alla nostra fotografia per generare il nostro bianco e nero, quello che ci aggrada. attivo il livello più alto, quello trasparente con le crepe, anche qua clicco nel tasto destro, unisci sotto e avrò un mio unico livello con queste mie crepe. al di sopra di tutto vado ad aggiungere quindi ancora un livello di regolazione, questa volta tinta unita e mi spunterò inizialmente un colore che poi sarà modificato in base al gusto e a come saranno i risultati. confermo, inizialmente avremo coperto tutto quanto e naturalmente andiamo ad agire sui metodi di diffusione, spuntiamo in alto e iniziamo a scorrere finché arriviamo a quello che ci piace. li passiamo un po' e valutiamo naturalmente il risultato. non sempre tutto è buono, non sempre tutto è gradevole, quasi quasi mi fermerei a questo qua che è il sovrapponi e con un doppio clic sul primo colore applicato possiamo spostando questo cursore valutare con le altre tonalità l'effetto che fa e se magari ne troviamo una che ci piace di più o che si sposa meglio con la lavorazione. confermo e aggiungo ancora qualcos'altro sopra, se abbiamo delle parti che coprono zone interessanti zone che ci interessa siano più visibili, attiviamo il livello e in questo caso visto che abbiamo un metodo di fusione schiarisci, se utilizziamo un pennello normale, quindi clicco un pennello e vado a scegliere un pennello rotondo e sfumato, posso intervenire magari in quelle zone dove mi interessa che salti fuori qualcosa che nascosto non stava del tutto bene. clicco il livello più alto, ne aggiungo un altro di livello di regolazione, quindi l'icona centrale e questa volta vado a sfumarmi pattern, pattern mi permette di scegliere con questa finestrina una serie di motivi di graffismi ripetitivi e cliccando li li vediamo direttamente questi serviranno a darci una trama al di sopra di tutto e rendere la nostra fotografia ancora più, ancora più ruvida, ancora più materica. Quindi li proveremo un po', quindi vediamo il risultato, cerchiamo di previsualizzare come diventerà poi fondendo successivamente, magari è meglio stare su trame più fini, piuttosto che troppo troppo grosse, possiamo, mi fermerei a questo, questo è marmo chiaro, possiamo aggiungere a quelle che troviamo qua sempre, vediamo un po' come si può fare, cliccando qua e questa freccia abbiamo la possibilità di aggiungerne altre e valutare se ce ne sono di interessanti. confermo e anche qua modifico il metodo di fusione, probabilmente con moltiplica avremmo la fusione migliore, se questo grigio, io ho scelto questo marmo quindi aveva una sua base di grigio, volendo applicando un ulteriore livello di regolazione, quindi ancora con una centrale, livelli, questa volta mi giusterò sulla luminosità, posso lavorare sulla luminosità o generale, se lo lascio così com'è, quindi mi giustro e lo regolo dando un'occhiata visiva al risultato, oppure posizionandoci tra il livello più alto e quello sottostante, cliccando Alt, abbiamo la possibilità di collegare questa regolazione soltanto a livello sottostante, può variare la cosa perché questa regolazione di luminosità viene applicata nella parte al di sopra e non su tutta l'immagine. Eccoci direi che possiamo fermarci, io mi sono limitato a provare una soltanto dei partner che si sono a disposizione, ma sono veramente tanti, quindi si possono fare tentativi per avere risultati diversi e valutarli in base alla loro trama. Salviamo il formato psd e così potremmo conservare tutti i livelli aperti, facciamo un livello, unico livello per poi salvare in jpeg o in tif. Grazie a tutti.